se stai pensando una bella villa probabilmente stai pensando a questa anche se non lo sai ancora è nuova è elegante ha tutte le dotazioni di una casa attuale ed è nel cuore del paese secondo me non dovresti perderla viene a dargli un'occhiata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.